ben ritrovati miei cari ospiti al salone della storia della locanda oggi amici miei parliamo di crudeltà parliamo di politica e parliamo di grandezza conosceremo una delle figure più nobili e discusse dell'intero mondo russo oggi parliamo di ivan il terribile vi ricordo che questa voce è stata letta dalla pagina wikipedia di cui potrete trovare il link in descrizione ivan quarto assunse per primo il titolo di zar di tutte le russie titolo che nel 1561 fu approvato dal decreto del patriarca di costantinopoli nacque così la teoria che voleva mosca la terza roma ivan quarto nacque a kolomenskwe il 25 agosto del 1530 e morì a mosca il 18 marzo 1584 è noto anche come ivan il terribile la traduzione col termine terribile è molto ambigua l'aggettivo terribile in russo deriva da stra paura oppure usas terrore invece grozni deriva da groza che può significare sia tempesta sia minaccia pertanto il nome dello zar suona più come ivan il tonante o ivan il temibile questo aggettivo era usato dal popolo in maniera tutt'altro che negativa dato che il sovrano tuonava minacciava i boiardi che molte volte nella storia russa si sono resi responsabili della disgregazione dello stato lo stesso aggettivo grozni talvolta è attribuito anche a ivan terzo nella tradizione popolare russa ivan terzo è conosciuto semplicemente come ivan vasilevich biografia la reggenza di elena glinskaya figlio di basilio terzo di russia e di elena glinskaya si trovò orfano di padre già all'età di tre anni il 3 dicembre 1533 divenuto quindi principe di moscovia il suo regno venne retto per cinque anni dalla madre elena sul proprio letto di morte basilio terzo trasferì infatti i suoi poteri a quest'ultima dandole la facoltà di governare il principato fino a che il primo genito ivan non fosse stato abbastanza maturo per subentrarle gli storici del tempo non ci forniscono alcun'altra informazione sullo status di elena dopo la morte del marito è solamente dato sapere che la sua autorità poteva essere definita come reggenza e che tutti i boiardi avrebbero dovuto a lei sottomettersi per questa ragione il tempo che intercorse tra la morte di basilio e quella della moglie avvenuta in circostanze misteriose nel 1538 viene definito con l'espressione il regno di elena poco dopo la morte di basilio terzo iniziò per ivan una dura lotta che si sarebbe prolungata per tutta la gioventù quella contro i boiardi che aspiravano a conquistare posizioni di potere e che vedevano nel nuovo gran principe solo uno strumento un fanciullo facile da manovrare a favore di una o dell'altra fazione nobiliare già verso la fine del 1534 il principato di moscovia venne a trovarsi sull'orlo di una guerra civile tuttavia per evitare la presa di potere di una delle fazioni boiarde e per assicurare una tranquilla successione al proprio primogenito la madre di ivan quarto elena fece imprigionare e giustiziare molti nobili tra cui i principi russi fratelli dello stesso basilio accusandoli di aver cospirato contro di lei e di suo figlio le precauzioni prese da elena non ebbero tuttavia successo la sua morte avvenne in strane circostanze e probabilmente il decesso fu causato da un avvelenamento per il piccolo ivan questo avvenimento fu sconcertante privato anche della madre a cui era legato da un profondo vincolo affettivo si ritrovò orfano a otto anni con l'incombenza di governare uno stato e di tenere a bada una corte che senza il freno della madre non tardò a sprofondare nel caos più totale a causa dell'acquirsi delle lotte fra i boiardi guerra civile in questo clima di insicurezza fu inevitabile lo scoppio della guerra civile all'interno del principato di moscovia l'obiettivo delle diverse fazioni in lotta era quello di poter controllare il trono retto dal giovanissimo monarca considerato null'altro che un sovrano fantoccio a contendersi il potere furono le due più importanti famiglie boiarde gli suschi e i belschi queste due fazioni continuarono a combattersi tra di loro e appena una aveva il sopravvento sull'altra la corte russa veniva decimata da stragi perpetrate dalla vincente contro coloro che venivano sospettati di tradimento le due famiglie iniziarono ad attingere al tesoro del principato e non esitarono ad utilizzare l'esercito moscovita per le proprie trame di potere nel frattempo con la russia in piena guerra civile nessuno si ricordò del suo legittimo regnante il quale fu talmente trascurato da non essere nemmeno nutrito regolarmente ivan si aggirava tutto solo tra le grandi stanze del palazzo imperiale dimenticato da tutti e circondato da omicidi tradimenti e spietate lotte per il potere l'unico appoggio che ricevette fu quello del suo futuro consigliere macario il quale eletto metropolita nel 1542 prese sotto la sua protezione il giovane ivan ed è condivisa il forte odio verso i boiardi il clima di sospetto e di intrigo in cui ivan quarto si ritrovò a vivere durante la sua infanzia segnarono perennemente la psiche del giovane zar da qui prima ancora che dal mero calcolo politico nacque il suo odio esasperato contro le famiglie nobiliari e la strenua diffidenza verso tutto il genere umano per alcuni suoi biografi furono tutte le atrocità a cui ivan quarto dovette assistere e a cui dovette far fronte a trasformarlo in un crudele tiranno tanto da farlo soprannominare il terribile in età adulta la famiglia suschi i cui membri erano stati elevati al ruolo di reggenti cercò in ogni modo di controllare il ragazzo così da poter avere carta bianca nel governo del paese ivan che secondo le fonti fu fin da giovane di stazza erculea allo scopo di confondere i boiardi si faceva credere un inetto in realtà egli era in possesso di straordinarie doti di intelligenza e cultura che lo portavano a passare la maggior parte del proprio tempo immerso nella lettura nel 1544 quando ivan quarto aveva 14 anni chiamò a sé due bracconieri di indubitabile fedeltà ordinando loro di catturare e strozzare il capo famiglia suschi e gli stesso assistetta la morte del proprio nemico con tranquillità come se la cosa non lo toccasse affatto le cronache del tempo provenienti dalla corte moscovita ci riferiscono che dopo questo episodio i boiardi iniziarono a diffidare e a temere ivan quarto dopo aver fatto capire che i rapporti di forza del principato di moscovia si erano ribaltati a proprio favore ivan si circondò nella propria corte di giovani nobili che per quattro anni furono suoi sodali in giochi crudeli e molto stravaganti si divertivano infatti appena scesa la sera a vagare per mosca e a bastonare chiunque trovassero sulla loro strada violentando le donne che avevano la sfortuna di incontrarli un altro passatempo cui erano particolarmente dediti era quello di gettare dei cani dalle torri del castello imperiale ivan quarto fu ufficialmente incoronato zar di russia con la corona di monomaco all'età di 16 anni il 16 gennaio 1547 i primi anni di regno al momento dell'incoronazione dopo aver dimostrato negli anni precedenti la propria intelligenza in ambito politico ivan si rivelò di un'ambizione tale da affermare che i simboli del principato di mosca il globo con la croce e lo scettro provenivano direttamente da costantinopoli in quanto inviati da un imperatore bizantino nel dodicesimo secolo a un proprio antenato il principe della dinastia ruric giustificò in questo modo la propria decisione di assumere il titolo di zar ovvero cesare chiaro riferimento all'impero romano e fece assurgere mosca al ruolo di terza roma a ulteriore giustificazione di tale scelta vi era la circostanza che nelle vene di ivan quarto scorreva sangue imperiale bizantino poiché suo nonno ivan terzo di russia aveva sposato nel 1472 zoe paleologa poi rinominata sofia figlia di colui che aveva il titolo onorario di imperatore romano d'oriente ossia tommaso paleologo fratello degli ultimi due imperatori bizantini giovanni ottavo paleologo e costantino nono paleologo per completare l'opera infine ivan quarto introdusse nello stemma imperiale russo il simbolo distintivo degli imperatori bizantini ovvero l'aquila bicipite e non solo si nominò zar ma scelse di persona anche la nuova zarina come i basileus a costantinopoli scegnevano la nuova basilissa emanò infatti un editto nel quale intimava tutti i nobili russi di inviare a mosca le proprie figlie in età da marito in modo che lui stesso potesse scegliere la sua futura moglie la pena per chi avesse tentato di non ubbidire prontamente a tale ordine sarebbe stata la morte le figlie dei boiardi che giunsero a mosca furono all'incirca 1500 e ivan quarto le osservò tutte attentamente seguito dal proprio consigliere e ad ognuna di esse regalò delle pietre preziose e uno scialle con ricami dorati lo zar scelse come sua compagna anastasia romanovna zaccarina appartenente a una famiglia nobile di provincia e sorella di nikita romanovich zaccarin yuriev tuttavia la sua scelta non fu gradita agli aristocratici moscoviti che si sentirono offesi in primo luogo perché non era stata scelta una delle loro figlie ed in secondo perché loro non volevano servire e prestare giuramento ad una nobile donna di poco conto venuta dalla provincia ivan quarto in seguito avrebbe più volte apprezzato la scelta effettuata quel fatidico giorno poiché il suo rapporto con la moglie si riverò col tempo ottimo cominciò infatti a fidarsi quasi solo ed esclusivamente di lei che era una persona mite e fedele e quando si trovava in sua compagnia non era soggetto a quei terribili sbalzi di umore che da pochi anni avevano cominciato a manifestarsi la crudeltà e il cinismo in ivan quarto crescevano tuttavia continuamente come sta anche a testimoniare un avvenimento che si verificò nel 1547 in tale data si presentarono a corte alcuni rappresentanti di un villaggio del principato di moscovia a lamentarsi riguardo il governatore della zona che a loro dire era ingiusto verso di loro ivan quarto per nulla interessato a tali doglianze e lamentandosi egli stesso di stare solo perdendo tempo ordinò alle proprie guardie di prendere quegli uomini e dopo averli cosparsi di acquavite di bruciare le loro barbe mentre i soldati stavano per eseguire l'ordine dello zar furono fermati dall'avviso di un servo che annunciava che mosca stava andando a fuoco il disastro fu inevitabile la città fu in gran parte distrutta e persero la vita 1700 abitanti anche il palazzo imperiale andò a fuoco e non fu possibile salvarlo dalle fiamme dopo questo evento lo zar fu colpito da un attacco di nervi ma secondo i suoi biografi contemporanei tale esperienza giovò al suo modo di governare che divenne più responsabile sembra infatti che avesse visto nell'incendio una punizione divina per i suoi peccati tanto da spingerlo a pentirsi pubblicamente sulla piazza rossa promettendo di governare dall'ora in poi nell'interesse del popolo successivamente si circondò di un numero di consiglieri più moderati e meno accondiscendenti verso le sue intemperanze e riuscì inoltre a tramutare tale nefasto avvenimento in un successo politico poiché il popolo ritenne responsabile dell'incendio la potente famiglia dei glinski parenti materni dello zar i cui esponenti di spicco vennero linciati dalla folle in tumulto iniziò quindi un periodo caratterizzato da una politica volta alla pace e alle riforme di modernizzazione dello stato innanzitutto nominò un ministro riformatore nella persona di alexei fedorovic ad azev volendo rafforzare la carica di zar in modo da renderla meno soggetta ai condizionamenti esterni ivan contrastò i funzionari e il clero corrotto modificò il codice penale convocò nel 1549 lo zemski sobor con il quale costrinse i boiardi a ratificare in assemblea le sue decisioni in politica interna e nel 1551 convocò il concilio ecclesiastico diretto dallo stesso ivan nel quale venne stabilita la subordinazione della chiesa allo stato e un complesso sistema di rituali e regole a cui la chiesa ortodossa russa avrebbe continuato sottoporsi nei secoli successivi nel 1550 ivan creò un esercito permanente formato dagli strelizi grazie al quale riuscì a ottenere il controllo su tutti gli esponenti dell'alta nobiltà l'appellativo il terribile fu coniato proprio in tale occasione dalla fascia più bassa della popolazione e lungi da avere una connotazione negativa manifestava invece il rispetto dei più poveri verso il loro sovrano che non esitava a usare il pugno di ferro sia con la nobiltà che li opprimeva e sia con i tartari autori da secoli di continue e sanguinose razzie nelle campagne a far risultare ivan quarto ancora più gradito al basso volgo sopravvenne un suo discorso pubblico a mosca nel quale si scusava con i propri sudditi di non averli difesi in passato contro i soprusi di certi boiardi e annunciava che da quel momento in poi non sarebbe più accaduto nulla di simile concluse la propria orazione ergendosi a difensore dei deboli e mise subito in atto i propri intenti facendo immediatamente arrestare un gran numero di nobili la russia inoltre iniziava in quel periodo ad ampliare le proprie rotte commerciali aprendo ai mercanti inglesi il porto di ankargelsk sul mar bianco lo zar era inoltre determinato a contrastare i continui assalti da parte dei tartari sui suoi territori e per far ciò decise nel 1551 di organizzare un grande esercito di cui poi egli stesso si mise a capo con l'obiettivo di attaccare i canati tartari conquistò i canati di kazan nel 1552 e di astrakhan nel 1556 entità statali nate dalla dissoluzione del canato dell'orda d'oro durante tale periodo delegò al metropolita macario il compito di gestire gli affari interni della moscovia e leggendolo di fatto reggente la prima parte del regno di vanquarto non fu solo caratterizzata ad aspetti positivi risale infatti a questo periodo la promulgazione delle prime leggi che restringono la libertà di spostamento dei contadini leggi che daranno poi origine alla servitù della gleba nel 1553 ivan iv diede ordine ai suoi architetti di erigere una nuova chiesa a mosca questa originariamente costruita per festeggiare la presa di kazan sarebbe stata successivamente chiamata cattedrale di san basilio in onore del santo stolto in cristo basilio il benedetto con il quale ivan aveva costruito uno stretto rapporto la chiesa che oggi si trova nel lato sud della piazza rossa fu completata nel 1560 ma il risultato non fu di gradimento ai contemporanei che la definirono grottesca con colori troppo accesi e con una totale mancanza di simmetria ciò nonostante allo zar piacque moltissimo tant'è vero che diede l'ordine di accecare gli architetti affinché non potessero costruire per qualcun altro una cosa altrettanto bella avvenimento di notevole importanza storica che caratterizzò i primi anni di regno di ivan iv fu l'altresì l'introduzione in russia della prima pressa da stampa tipografica sebbene i primi due stampatori ivan fedorov e petr mistavlez siano stati in seguito costretti a fuggire da mosca e a rifugiarsi nel gran ducato di lituania tragedie tradimenti e follia un successivo conflitto iniziato per l'espansione del territorio e il controllo sui mari durante il quale inizialmente i russi avevano conseguito un buon numero di vittorie si trasformò in un'interminabile guerra contro svedesi lituani polacchi e ordine livoniano gli scontri militari si protrassero per 22 anni e consumarono notevoli risorse la russia ne fu danneggiata sia dal punto di vista economico che da quello militare senza ottenere alcun vantaggio territoriale al termine del conflitto il miglior amico consigliere di ivan iv il principe andrei kurbischi tradì la fiducia dello zar e fuggì in polonia nel 1553 ivan fu colpito da una violenta febbre e la sua salute peggiorò al punto tale che nessuno tanto meno lo zar stesso avrebbe potuto credere in una sua guarigione per questo convocò i boiardi al cui chiese di giurare fedeltà al figlio dimitri che ivan iv aveva prescelto come proprio erede e successore poiché però i nobili non avevano alcuna intenzione di promettere fedeltà a dimitri arrivarono persino a litigare davanti al morente ivan sul nome di chi avrebbe dovuto sostituirlo sul trono di mosca ivan tuttavia contro tutte le aspettative guarì per ringraziare dio del beneficio ricevuto lo zar intrapreso un pellegrinaggio ma mentre era già in viaggio dovette far ritorno a mosca a causa di una disgrazia che si era battuta sulla sua famiglia il figlio dimitri era caduto nel fiume sexna nel quale era morto annegato il dolore di ivan fu immenso e a questo si sommò quello per la perdita nel 1560 dell'amatissima moglie anastasia una delle pochissime persone di cui lui si fidasse che pare fosse stata assassinata dai boiardi dopo la morte di quest'ultima lo zar sembrò essere sull'orlo della follia ma appena 11 giorni dopo prese in sposa in seconde nozze maria tembrio kovna una principessa cabardina anche se secondo i contemporanei maria era la vera fautrice delle decisioni dello zar non fu mai veramente amata da ivan quarto il quale disapprovava il suo modo di comportarsi la zarina morì nel 1569 e dopo di lei ivan quarto si sarebbe sposato altre sei volte l'opricnina il 3 dicembre 1564 ivan quarto si allontanò con la propria famiglia e con tutti i suoi servi dal palazzo imperiale di mosca per stabilirsi nel villaggio di alexandrov portando con sé le insegne imperiali e il tesoro di corte lo zar faceva affidamento sul fatto che i nobili divisi in fazioni e incapaci di trovare un accordo su come governare la moscovia gli avrebbero spontaneamente chiesto di tornare al potere accettando tutte le condizioni che ciò avrebbe comportato il 3 gennaio 1565 inviò al metropolita di mosca atanasio una lettera nella quale accusava i boiardi della disgregazione in cui si trovava il paese e di crimini manifestando altresì l'intenzione di abdicare ordinò tuttavia i suoi fedeli rimasti a mosca di leggere due suoi proclami per le strade della capitale in uno accusava i suoi boiardi di maltrattare il popolo e annunciava che avrebbe abdicato nel secondo smentiva l'abdicazione e affermava di averla semplicemente usata come minaccia il tentativo si rivelò efficace temendo un nuovo periodo di disordini una delegazione composta dal metropolita dai boiardi che temevano la degenerazione della situazione politica interna e di essere accusati di tradimento e dai mercanti delegazione appoggiata dal popolo fedele allo zar si recò ad alexandrov il sovrano pose solo una condizione la cui accettazione lo avrebbe reso illimitatamente potente il clero avrebbe dovuto rinunciare al suo diritto di intercessione nei confronti dei ceti più deboli e i boiardi avrebbero dovuto rinunciare alle garanzie di una giustizia equa la delegazione fu costretta ad accettare al suo ritorno a mosca lo zar parve cambiato le cronache molte delle quali provengono tuttavia dal partito a lui avverso riportano che i suoi occhi si erano infossati profonde rughe erano comparse sul suo viso e il suo aspetto era deperito nel corso dello stesso mese un ukaz dello zar divise il territorio della moscovia in due parti la zemshina la quale conservava la passata amministrazione zarista e l'opricnina sulla quale ivan deteneva un potere illimitato quest'ultima corrispondeva più di un terzo dell'intero regno e comprendeva i migliori terreni coltivabili parti delle città più grandi e della stessa mosca nella medesima occasione ivan quarto creò la milizia degli opricniki una truppa scelta di mille uomini che aveva il dovere di obbedirgli fedelmente questi uomini cui il popolo ben presto affibirà il soprannome di truppa di satana per il terrore che diffondevano tra i boiardi circolavano vestiti completamente di nero e avevano come segni distintivi una scopa e la testa di un cane che simboleggiavano allegoricamente la loro missione fiutare il tradimento e spazzarlo via portavano queste figi sulle selle dei loro cavalli soprannominati neri dell'inferno il più famoso tra i comandanti di queste bande fu maliuta skuratov spietato esecutore degli ordini dello zar e suo uomo di fiducia durante questi eventi le condizioni di sanità mentale dello zar peggiorarono testimonianza di ciò ci è fornita dalle cronache del tempo per lo più provenienti da autori contrari alle politiche zariste che ci raccontano di come l'imperatore si alzasse all'alba per pregare quattro ore di fila insieme a tutta la sua corte chi fosse stato assente o sorpreso a non pregare con fervore poteva essere incarcerato o anche ucciso dopo tali funzioni a cui spesso si accompagnavano esecuzioni capitali lo zar e la sua corte si davano alla vita mondana partecipando a banchetti visitando infine i sotterranei dove erano presenti le camere di tortura l'istituto dell'opricnina perdurò dal 1565 al 1572 sette anni durante i quali ivan si sforzò con tutte le sue forze di annientare i suoi avversari e di mutare il sistema di governo russo tramutandolo in un'autocrazia assoluta i boiardi duramente perseguitati e privati delle loro terre cercarono inizialmente tramite una decisione dello zemski sobor del 1566 di dissuadere il sovrano e successivamente giunsero a chiedere l'intervento militare della lituania ivan dopo essere riuscito a intercettare il loro messo fece imprigionare i sediziosi e li condannò a morte il metropolito filippo che aveva cercato di intercedere presso lo zar per i nobili tenuti prigionieri fu ucciso e tale fine fecero anche due cugini di ivan vladimir di starizza e il figlio costretti dal sovrano ad avvelenarsi perché sospettati di complotto ivan ordinò l'uccisione di molti nobili e contadini e introdusse la coscrizione obbligatoria per consolidare l'esercito che stava combattendo la guerra di livonia spopolamento e carestie si seguirono quelle che erano state le più ricche zone della moscovia divennero le più povere tra il 1569 e il 1570 respinse un tentativo dei turchi di conquistare astracan nel 1570 lo zar avendo saputo che i capi boiardi della rivolta erano alcuni nobili di novgorod inviò i suoi opriknichi con l'ordine di saccheggiare la città e di uccidere tutti i suoi abitanti si fece poi stilare una lista di tutti i morti che presentò nei monasteri russi chiedendo ai loro egumeni di celebrare messe di suffragio fonti di parte riferiscono che la cifra dei morti oscillerebbe fra le 30.000 e le 40.000 anche se a livello ufficiale si contano 1500 caduti tra i nobili e lo stesso numero tra la gente comune sulla strada di ritorno verso mosca gli opriknichi attaccarono e devastarono i possedimenti dei boiardi massacrando ogni nobile lo stesso anno credendo che due dei capi delle sue truppe scelte alexei basmanov e afanasi vasemski avessero ordito una congiura ivan li fece arrestare e condannare a morte ivan quarto iniziò a dubitare dell'utilità dell'opriknina dopo l'esecuzione di quei due comandanti solo allora comprese che i membri della sua truppa scelta avrebbero potuto tradirlo con facilità alla prima occasione ivan quarto era giunto a credere che la terza moglie marfa sobachina morta 15 giorni dopo il matrimonio fosse stata abbelenata dagli opriknichi inoltre la truppa in quel periodo aumentò a 6.000 uomini la cui fame di bottino spingeva a razziare la zemscina di propria spontanea iniziativa senza aver prima ottenuto alcuna autorizzazione dal parte del sovrano nella primavera del 1571 i tartari della crimea invasero la moscovia e arrivarono fino alle porte di mosca distruggendo una parte della città durante l'avanzata gli opriknichi non fecero nulla per opporsi agli invasori probabilmente corrotti dal can tartaro tutte queste circostanze costrinsero ivan quarto a tornare sui suoi passi nel luglio 1572 una nuova ucaz abolì l'istituto dell'opriknina e sciolse le truppe degli opriknichi i fondi dell'opriknina furono quasi fusi con i terreni della zemscina e fu consentito ai precedenti proprietari di ritornare nei possedimenti abbandonati sette anni addietro leggenda vuole che al momento della sua abolizione lo zar avesse minacciato fortissime pene a chiunque avesse fatto menzione di questo istituto come di una cosa realmente esistita gli storici russi ritengono che il periodo di terrore degli opriknina abbia causato la morte di almeno 10.000 uomini provocando inoltre un notevole numero di carestie ed esodi di massa di contadini il commercio subì un duro colpo e ci sarebbero voluti diversi anni prima che questa traumatica esperienza si cicatrizzasse nel tessuto sociale della moscovia gli ultimi anni di regno nel novembre del 1581 ivan picchiò violentemente la propria nuora incinta di un figlio per aver indossato vestiti troppo appariscenti causandole l'aborto suo figlio anch'egli chiamato ivan appena venuto a sapere dell'accaduto ingaggiò un litigio furibondo con il vecchio zar durante il quale quest'ultimo colpì la testa del figlio con la punta in ferro del proprio bastone causandone la morte disperato per ciò che aveva fatto ivan iniziò a vagare per i corridoi del suo palazzo imperiale urlando sbattendo la testa contro i muri e dicendo che non era degno di essere lo zar di tutte le russie riunì in seguito i boiardi annunciando che voleva abdicare e chiedendo loro di scegliere il proprio erede i boiardi temendo di essere accusati di complotto rifiutarono di adempiere alla sua richiesta nel 1582 ivan quarto ratificò l'annessione del canato di casim ormai da decenni stato fantoccio nelle mani della moscovia negli anni seguenti grazie all'impegno della famiglia degli stroganov e di un gruppo di cosacchi guidati dal bandito yermak la russia annesse il canato di sibir conquistando in tal modo la siberia occidentale verso l'inizio del 1584 ivan quarto si ammalò gravemente e capendo che ormai era in punto di morte chiamò a sé il debole e forse ritardato mentale figlio fedor nominandolo proprio erede al trono gli raccomandò di governare con giustizia e saggezza e di evitare in ogni maniera la guerra perché la russia non era pronta per un conflitto con il timore della morte ivan quarto cercò il perdono divino e quindi prese gli ordini monastici con i quali si sentiva certo di espiare tutti i suoi peccati credenza popolare vuole che ivan sia morto mentre giocava a scacchi molto probabilmente con la sua guardia del corpo bogdan belski il 18 marzo 1584 quando la tomba di ivan fu aperta per una serie di restauri voluti dal governo sovietico negli anni sessanta del ventesimo secolo le sue ossa furono analizzate e fu scoperto che le stesse contenevano una quantità di mercurio tale da far ritenere con buona probabilità che il sovrano fosse stato avvelenato i sospetti degli storici moderni ricadono sui suoi consiglieri fedor belski e boris godunov che divenne zar nel 1598 tre giorni prima infatti ivan aveva cercato di stuprare irina sorella di godunov e moglie di fedor le urla della donna attirarono godunov e belski che dopo essere stati testimoni di tale evento dovettero considerarsi vicino alla morte nonostante ivan avesse nel frattempo lasciato scappare la donna la tradizione riferisce che entrambi abbelenarono o strangolarono lo zar temendo per le proprie vite il mercurio trovato potrebbe essere tuttavia stato utilizzato dal sovrano per un trattamento contro la sifilide di cui voci di corte ritenevano ivan affetto il primo zar giocò un ruolo molto importante nella storia della russia riuscendo a sopprimere i canati tartari ed espandendo i territori della moscovia iniziò inoltre una politica di apertura verso l'europa tentando di far uscire la russia dal suo isolamento tale politica sarebbe stata portata avanti dai suoi successori dopo la morte di ivan iv la moscovia indebolita e devastata passò in eredità al figlio fedor primo ma le sue cagionevoli condizioni di salute e il suo stato mentale alterato gli impedirono di affermare la propria personalità di sovrano e di sviluppare una politica autonoma lo zar e la religione il rapporto di ivan il terribile con la religione fu di certo controverso e non privo di ambiguità se da un lato lo zar non aveva nessuna esitazione a diminuire il modo drastico il potere della chiesa ortodossa russa emanando leggi che di fatto ne diminuivano l'autonomia autoregolamentativa e successivamente ad inviare il proprio più fedele sicario ad assassinare il metropolita filippo dall'altro si mostrò spesso incline a un misticismo che parve più volte sconfinare nella mera superstizione adesso oltre che alla sua proverbiale impulsività va attribuita la decisione di intraprendere un pellegrinaggio dopo essere stato salvato a suo capire miracolosamente dalla malattia che nel 1553 era stata prossima ad ucciderlo o la decisione negli ultimi anni della propria vita di prendere gli ordini monastici preme inoltre far notare il particolare rapporto che ebbe con alcuni uomini glorificati poi santi primo fra tutti il già citato basilio il benedetto lo stolto in cristo godendo di un particolare status di impunibilità che ivan era il primo a sancire e riconoscere era solito insultare pubblicamente lo zar non appena questi pareva allontanarsi dai precetti cristiani illuminante a questo proposito è l'aneddoto secondo cui durante una funzione religiosa basilio rimproverò ivan davanti a tutta la corte di non prestare la dovuta attenzione essendo troppo impegnato a pensare al nuovo palazzo che aveva intenzione di erigere sul monte dei passeri si narra che da quell'episodio il sovrano iniziò a temere il santo che era stato capace di leggergli nella mente e a manifestare verso di lui un rispetto ancora più grande tale rispetto lo porterà ad accorrere nell'agosto del 1557 al capezzale di basilio morente e a portare il feretro del santo durante il funerale altro santo sempre stolto in cristo con il quale ivan si racconta essersi incontrato fu nicola di pskov il quale osò affrontare nel 1570 all'ira dello zar arrestandosi dinnanzi a lui e ordinandogli di cessare il massacro in atto nella sua città si narra che pskov a differenza di novgorod si salvò dalla vendetta del sovrano per la defezione in campo lituano di alcuni suoi boiardi proprio grazie alla grande dose di timore rispetto che ivan provava per gli appartenenti a questa particolare condizione ascetica il rapporto con i santi lungi dall'essere esclusivamente personale si fondava anche sulla venerazione delle reliquie alle quali ivan peraltro in linea con lo spirito del suo tempo attribuiva una valenza magica già durante il proprio auto esilio di alexandrov lo zar aveva portato con sé oltre al tesoro reale anche le reliquie presenti a mosca utilizzando nel possesso per estorcere ai boiardi l'opricnina nel 1551 prima della spedizione militare contro il canato di kazan ivan si recò in pellegrinaggio a rostov presso il monastero fondato da abramon di rostov dove i monaci gli mostrarono il bastone con cui si narra che tale santo avrebbe distrutto la statua di beles un dio pagano venerato nella zona credendo che tale bastone potesse procurare lui la vittoria contro i tartari infedeli lo asportò dal tempio e lo portò con sé durante la guerra l'immagine di ivan nelle favole russe i racconti e le fiabe tramandateci dal folklore russo riguardanti ivan quarto sono in netto contrasto con quanto gli storici hanno sempre affermato sulla sua figura ed il suo regno come sostiene lo studioso jack v haney le fiabe popolari che riguardano ivan conosciuto come il terribile sono molto interessanti in quanto ritraggono il primo zar ortodosso di tutte le russie in una luce piuttosto diversa da quella tramandateci dagli storici dallo studio di una grande varietà di fiabe infatti l'immagine predominante che ne emerge è senza dubbio positiva morim perry sostiene che dal momento che è dipinto come l'amico della gente comune e il nemico dei boiardi lui ivan è considerato uno zar buono nelle fiabe infatti lo zar è tipicamente descritto come un alleato e protettore degli oppressi contro i loro comuni nemici di cui in primo luogo i nobili un esempio di tale tendenza può essere evidenziato in una fiaba rinvenuta e trascritta dallo studioso samuel collins in cui nasce un'amicizia tra lo zar celatos in modo da sembrare un comune suddito e un ladro di strada un giorno il ladro chiede a ivan se vuole andare a rubare con lui e lo zar acconsente dopo aver asportato un discreto quantitativo di merce in alcuni negozi al mercato ivan volle provare la fedeltà dell'amico suggerendogli di rubare il tesoro reale a tale suggerimento il ladro schiaffeggiò in volto di ivan dicendogli ho rubato per anni ma non mi sognerai mai di derubare il mio zar la storia continua con la proposta da parte del ladro di derubare i boiardi con la motivazione che loro avrebbero guadagnato i soldi sfruttando la povera gente commosso dalla fedeltà e dal rispetto che l'uomo sosteneva avere per il proprio sovrano ivan si palesò allora nella sua vera identità e chiese al giovane ladro di diventare suo consigliere la fiaba di collins mostra chiaramente come lo zar fosse considerato dai poveri alla stregua di un ideato eroico sempre pronto a combattere insieme al volgo la classe dei boiardi accettando di fornire il proprio aiuto al ladro lo zar implicitamente ne legittima le azioni conseguentemente l'immagine che se ne trae non è affatto quella di un sovrano sanguinoso e senza scrupoli ma piuttosto quello di un re gentile e compassionevole con i propri sudditi e con questo miei cari ospiti è finita la voce su ivan quarto il terribile di russia vi ricordo che questa voce è stata letta da wikipedia il vostro hoste vi saluta e vi ricorda di mettere un like a questo video che potete aiutare la locanda con una donazione su kofi o paypal se volete potete anche iscrivervi al mio patreon per ascoltare audiolibri esclusivi che non trovate da nessun'altra parte un saluto a tutti dalla locanda della tormenta e ci sentiamo nel prossimo podcast